Ben trovati, sono il dottor Michele Labianca, coordinatore della Task Force Coronavirus della Regione Basilicata. I dati riferiti al 21 gennaio, già diffusi dal bollettino della Regione Basilicata, indicano che da laboratori presso strutture ospedaliere pubbliche convenzionate della Regione è stato processato un numero di 794 tamponi molecolari per un totale complessivo di 203.062 tamponi molecolari effettuati dall'inizio dell'epidemia, ai quali si aggiungono 1.344 test antigenici rapidi effettuati alla data odierna. Per quanto riguarda i test molecolari, le positività totali riscontrate sono state 54 e di queste 49 in residenti, alle quali si sommano due positività in residenti in altre regioni italiane e in isolamento in comuni della Basilicata e 3 non residenti né domiciliati in Basilicata in isolamento nelle rispettive regioni. Il totale dei positivi della giornata presi in esame vede una prevalenza di soggetti di sesso maschile rispetto a quelli di sesso femminile, con un'età media di 49 anni per i soggetti di sesso femminile e 47 per quelli di sesso maschile. Tra i casi positivi della giornata presa in esame al 10% la percentuale dei soggetti nella fascia di età 0-20, più rappresentata al 74% la fascia d'età tra i 21 e 64 anni, al 16% l'interessamento degli ultra 65 anni. A prescindere dal numero complessivo giornaliero dei tamponi eseguiti, alcuni indicatori danno la seguente situazione per la regione. La percentuale di incremento dei nuovi casi negli ultimi sette giorni della regione Basilicata è del 3,3%, una percentuale lievemente inferiore al dato nazionale che è del 3,9%. La proporzione test positivi sul numero totale dei test effettuati, che testimonia la circolazione del virus sul territorio della regione, è del 6,4%. L'incidenza, cioè le nuove positività per Covid-19 per 100.000 abitanti, riferita agli ultimi 14 giorni, è di 220 casi positivi a fronte di una media nazionale di 340 casi positivi su 100.000. Infine l'indice di contagio RT, riferito agli ultimi sette giorni, è 1,14 ed è in linea col dato nazionale che ha fatto classificare la regione Basilicata come regione a rischio moderato. È in corso un'ulteriore verifica da parte dell'Istituto Superiore di Sanità del Ministero della Salute con conseguente valutazione, alla quale seguirà l'indice RT della scorsa settimana, che sarà a breve reso noto. Per quanto riguarda i casi positivi per Covid-19 nella regione, 39 sono attribuiti alla provincia di Potenza e di questi 4 interessano il capoluogo. I rimanenti 35 sono distribuiti in 16 comuni della provincia, 10 sono attribuiti alla provincia di Matera e di questi 3 interessano la città di Matera. Le rimanenti 7 positività sono distribuite in 6 comuni della provincia. Anche per il bollettino odierno le positività sono dovute alla presenza di più focolai sul territorio regionale, segno del predominante coinvolgimento della popolazione generale. Al momento non sono stati segnalati nuovi casi in residenze sanitarie per anziani, anche se il monitoraggio nelle strutture, già sede di focolaio, è costante da parte delle aziende sanitarie territorialmente competenti. Il totale dei ricoverati presso strutture ospedaliere lucane Covid dedicate sale a 88 pazienti, mentre il numero dei ricoverati nei pazienti di terapia intensiva è complessivamente di 5, di cui 4 pazienti a Potenza e 1 a Matera. I guariti nella giornata sono 23 per un totale di 5.303 soggetti. I positivi totali residenti sono 6.751, mentre quelli in isolamento domiciliare sono 6.663. È in corso revisione degli ultimi dati menzionati da parte dei competenti servizi ospedalieri e territoriali della Regione. Nella giornata esaminata non sono stati registrati decessi, pertanto il totale dei deceduti residenti è di 298 soggetti. Inoltre si ribadisce che da puntuale verifica effettuata in ciascuno dei 131 comuni della Regione, 80 sono sede di focolaio attivo di Covid-19, con un numero di almeno due positività, 62 comuni in provincia di Potenza e 18 in provincia di Matera, con un numero complessivo reale di 3.121 soggetti positivi nella popolazione. In relazione a quanto su esposto, si ribadisce che la Regione Basilicata, pur essendo al momento classificata in base agli indicatori nazionali a rischio moderato, si trova in una situazione che potrebbe rapidamente evolvere verso un rapido aumento dei casi a livelli potenzialmente superiori alla situazione attuale, in un contesto in cui il rischio di un'epidemia incontrollata è non gestibile e alto. Particolare attenzione va riservata al rispetto da parte di ciascuno di noi nella vita privata e nell'ambito lavorativo delle norme di massima precauzione per cercare di arginare la tendenza all'aumento incontrollato dei casi positivi e il conseguente sovraccarico dei servizi sanitari. Ringraziandovi per l'attenzione vi saluto e vi do appuntamento al prossimo intervento.